5.000 euro di generi alimentari, non si tratta di una maxi spesa ma del bottino dell'ennesimo colpo messo a segno in Valdarno che si è concluso con tre arresti. Iniziano infatti a dare primi frutti le operazioni a contrasto della criminalità intraprese dalle forze dell'ordine in Valdarno dopo la raffica di furti che ha colpito i comuni di Pergine e La Terina. I servizi straordinari di controllo del territorio attivati nelle ultime ore in seguito al vertice di alcuni giorni fa presso la prefettura di Arezzo hanno consentito infatti nella notte di mercoledì ai carabinieri delle stazioni di terra nuova Bracciolini e Bucine di arrestare tre persone che avevano messo a segno un furto in un magazzino di alimentari. I tre romeni ma residenti a Sesto Fiorentino avevano assaltato un deposito all'ingrosso a San Giovanni Valdarno prelevando generi alimentari per un valore di circa 5.000 euro. È stato grazie all'intuizione dei militari che hanno notato una Mercedes con targa straniera che si aggirava lungo la strada regionale 69 che i tre sono finiti in manette. I carabinieri hanno infatti seguito per alcuni chilometri l'auto fino all'ingresso dell'autostrada. A quel punto sono intervenuti fermando l'automobile, controllando i passeggeri e perquisendo il mezzo. All'interno dell'auto sono stati trovati numerosi generi alimentari con ancora le etichette dell'ingrosso saccheggiato ed arnesi da scasso utilizzati per forzare l'ingresso ed entrare quindi all'interno del locale. I tre uomini, due di 32 anni ed un 48enne con precedenti per furte e ricettazione sono stati giudicati per direttissima.